Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono TheMambaBoy e oggi siamo su un pack opening epico di FIFA 16 ragazzi questo sarà il miglior pack opening che potrete trovare su YouTube, in rete, da qualsiasi parte ragazzi ho trovato il mondo, ho trovato la Madonna, ci mancava un po' e trovavo anche Gesù ragazzi guardatevelo fino in fondo e non vi dico che ho trovato perché se no non guardate il video noi ci vediamo in un prossimo video, intanto vi lascio al video Bella, eccoci ragazzi, benvenuti, adesso si spacchetta, siamo su Xbox, useremo due account prendiamo il primo pacchetto di attenzione, bella merda, un pacchetto, ma cosa gioca ancora? non stiamo trovando niente ragazzi, dobbiamo mentre che, Antonelli, un altro pepe, pepe, Sli Mani, Sli Mani ragazzi, Sli Mani è bene adesso, bisogna trovare un altro pacchetto, un altro pacchetto, un altro pacchetto, un altro pacchetto Svoling, Svoling ragazzi, Svoling, dai cazzo, e dai cazzo, e dai cazzo, e dai cazzo tanto tu, Madonna quanto vale, no cazzo però, che se ne frega, noi abbiamo trovato il Tox, il primo Tox nel mio canale, cazzo qui si spacca tutto, un altro, andiamo con un altro numero di Suarez, e qui troviamo il delirio anche a Mertens, che mi va benissimo, un altro pacchetto Ruffie, 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 tanto c'è, è stato l'inzio tanto con questo Tox, di quanto SPIN, uno dei miei giocatori preferiti, 86, siamo due Tox, Madonna ragazzi, il primo pacchetto nh15 mio canale, e già siamo sfondando, che spine con quello, un altro my pasti, un'altra volta affiliando sono fastly, stop noooo Vaffa culo che merda Ragazzi non stiamo più trovando un cazzo Sì Bootland Finalmente un portiere della minchia Sì No Ma ragazzi Il soccatore più forte che c'è Eppure Suarez Che pacco opening ragazzi Stiamo sfondando tutto E siamo andati sul secondo account Ve lo ricordo E per il secondo account Stato in seguito tutto ragazzi Giocheremo sempre su questo da ora Ben pacchetto E teniamo anche Touré Ma è scazzo ragazzi 93 Il mio gioco di 3 Sì Lukaku Eh sì Lukaku Lukaku la merda Sì E guarda quanto vale Due Due Sono due Kantè 88 Ragazzi Siamo sfondando tutto Quanto Quanti Non mi ricordo neanche Quanti Totti Siamo Non Non mi ricordo Siamo Bellarin di nuovo Eppure Dierla Dierla Uniro Sì cazzo Sì cazzo Ci teniamo pure Bellarin Uno lo mi piace Bellarin Il secondo Il secondo Mi piace Che c'è Li abbiamo trovato Tutti Basta Ora mi deluso Impossibile Molto accanto Adesso Signiamo Crecchi Madonna Ragazzi Madonna Vi mostro Vi mostro Vi mostro cosa ho trovato Guardate Abbiamo trovato Il mondo Quanto siamo Uno Due Tre Quattro In quella guerra No l'ho trovato L'ho trovato Tempo fa E l'ho compasso Comunque ragazzi Ne abbiamo trovato Tanchissimi Abbiamo trovato Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sei Tozzo Ragazzi Impossibile Il mio primo Fuck Opening Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Mettete tanti like se volete un altro faccone Spero di arrivare a dieci like Noi ci vediamo in un prossimo episodio Bella